Sostegno all'istruzione di famiglie in difficoltà per la crisi economica. E' questo lo scopo del progetto Fai Gola Anche Tu, partita di beneficenza in programma sabato 13 ottobre allo stadio Carillo Pesenti di Alzano Lombardo. Organizzato dai giovani imprenditori di Confindustria Lombardia, l'evento coinvolge le nazionali italiane artisti tv e devolverà tutto il ricavato a diverse onlus, tra cui Cesvi e Caritas Diocesana Vergamasca. Innanzitutto l'evento inizierà alle 14 e ci sarà dalle 14 alle 16 un torneo con 5 squadre del territorio, ora fa un parto dai ragazzi tra il 2005 e il 2007, perciò ci saranno grande partecipazioni di famiglie, nonni, genitori e fratelli che parteciperanno a questa iniziativa, questo torneo con 5 squadre. Poi alle 16 inizierà l'evento proprio clou che è quella che è la partita tra una rappresentanza della nazionale artisti tv e una rappresentanza dei giovani imprenditori lombardi. Trasportivi e volti noti dell'intrattenimento, come Fabrizio Fontana, Giorgio Zanetti e Gigi Moroni, l'occasione è quella di trascorrere un pomeriggio di svago e compiere al contempo un atto benefico. Cosa mi ha spinto? Mi ha spinto tante cose, sicuramente in primis la solidarietà ed è importante farla, anche se tanti personaggi un po' non la vogliono fare o trovano delle scuse, io credo che sia molto importante, quindi quando si tratta di fare beneficenza bisogna darsi una mano tutti e noi personaggi dovremmo essere un po' lo stimolo a far venire la gente allo stadio, anche per vedere che siamo pessimi in campo, però non è il nostro mestiere, però va bene lo stesso. Grazie a tutti.